Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra l'allacciamento con la 11 e il bivio con la variante di Valico-Baccheraia. Per lo stesso motivo ci sono code a tratti in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa-Reggello. In A15 rallentamenti tra Pontremoli e Berceto verso Parma. In A11 sulla diramazione Lucca-Viareggio, fumo in carreggiata per un veicolo in fiamme tra Massarosa e Lucca-Ovest verso Lucca. In Fipili verso Firenze rallentamenti tra La Strassigna e Firenze-Scandicci. Su raccordo Siena-Firenze rallentamenti per lavori tra Colle di Val del Sanord e Monteriggioni in entrambe le direzioni. Infine per i treni per accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona tra Rigo Magno e Rapolano Terme, i treni regionali sulla linea Chiusi-Siena potranno subire ritardi e variazioni. Ed è tutto, buon viaggio!